Nell'ufficio del rialetto sindaco della Spezia per Luigi Perachini, grazie di averci ricevuto sindaco, che ha presentato la nuova giunta in non molti giorni, in gran segreto, le chiedo come è riuscito a mantenere tutto questo riservo visto che fino a poco prima di questa presentazione nemmeno noi avevamo ben chiaro quali fossero i nuovi assessori. L'esperienza insegna, la riservatezza evita polemiche, strumentalizzazioni e tante volte obiettivamente non è facile trovare le soluzioni immediatamente e quindi più si sta riservati e meglio è poi il lavoro finale, deve essere quello da valutare, ognuno ha il suo metodo, io ho questo. Non è stata priva, l'avevamo già commentato prima del voto, la marcia di avvicinamento alle elezioni, la fase finale della sua amministrazione precedente, è stato più difficile o più facile del previsto a costruire la squadra e soprattutto a contentare gli appetiti che sono sempre molto voraci dei partiti? Beh, è chiaro che ci siamo trovati di fronte a situazioni diverse rispetto a quella che era stata concordata, quindi i partiti hanno cambiato idea rispetto all'accordo fatto e quindi ho dovuto lavorare un po' di più per trovare una soluzione condivisa. Oggi ci siamo riusciti, non è mai facile comunque quando si parla di politica, quando si parla di istituzioni, perché amministrare una città significa avere delle competenze che devono anche tenere in considerazione il genere, il genere è quindi maschile o femminile e poi anche l'orientamento politico, non è facile trovare soluzioni di questo tipo. La legge permette a chiunque di candidarsi, permette a chiunque di portare un progetto alla valutazione degli elettori e poi però ti mette una serie di paletti che non sono banali. Nove assessori, se non ricordo male quattro confermati e cinque novità, come mai è stato naturale arrivare anche ai cambiamenti, perché questi quattro confermati avevano lavorato particolarmente bene? Dopo il risultato delle elezioni, naturale sarebbe stato confermare tutti, però chi per scelte professionali, chi perché il risultato delle urne ha dato delle indicazioni, che partiti hanno valutato in modo diverso, la sintesi finale è stata questa, quindi cercare di una certa continuità, la maggiore possibile, perché il lavoro da fare è ancora tanto ed è un percorso che necessita ancora molto tempo e dall'altro trovare, per quanto riguarda le novità, le competenze e soprattutto le esperienze e le conoscenze per poter far sì che la macchina amministrativa corra immediatamente senza, diciamo, rallentamenti, che quando ci sono troppe novità, purtroppo è normale, la pubblica amministrazione è veramente un mondo a sé stante, fatto di regole, di norme, di procedure, non è banale, ecco perché la decisione presa è stata questa. Faccio un paio di nomi, giusto per entrare in qualche dettaglio, un vice sindaco donna, Maria Grazia Fria, premiata anche per il fatto di essere, diciamo, di Fratelli d'Italia, che dopo la lista del sindaco è quella che ha meglio performato, nel centro-destra? Ma sostanzialmente sì, è anche una tradizione del mio mandato, cioè quello di avere il vice sindaco donna, ho avuto solo il vice sindaco donna e quindi ho voluto confermare questa tradizione, proprio per rispetto a tutte le donne e quindi è la quarta vice sindaca donna e è un segnale, è un segnale di tutti i tipi, anche politico, perché la paridignità all'interno del centro-destra, di tutte le forze politiche, non solo, è anche una paridignità di valori e questo secondo me è importante nel 2022 riconoscere, anzi, addirittura Fratelli d'Italia mi ha dato proprio l'indicazione di poter scegliere due donne, quindi è un segnale importante, tutti i giorni si sentono brutte notizie perché riguardano purtroppo reati atroci che toccano il mondo femminile, noi continuiamo la nostra tradizione invece di dare una vetrina importante proprio a ogni donna. E poi c'è Giulio Guerri che ha fatto una vita al consigliere comunale, ora è costretto ad abbandonare il consiglio, però per una buona ragione l'ho visto particolarmente emozionato. Sì è vero, è stato emozionato, è un momento di cambiamento e quindi anche di crescita dove un conto è fare il consigliere comunale, fare il presidente del consiglio comunale, un conto è fare l'assessore e anche un po' scoprire fin dove ognuno di noi può arrivare, anch'io non pensavo di essere in grado di fare il sindaco e invece siamo qui a parlare del secondo mandato. Per Giulio erano tutti emozionati, quando l'ho comunicato ieri notte ad ognuno di loro erano emozionati. Non gli ho comunicato alle deleghe, come dicevo prima, ve lo avete poco prima della conferenza stampa, proprio per fargli vivere un po' questa emozione come un unico nella loro vita. E così è stato anche più difficile fare i commenti a caldo, ma insomma è giusto così ed è stato anche divertente per noi giornalisti che sia andata così. Senta, secondo mandato, io che ormai sono mezzo forestiero, ma che sono cresciuto in questa città, sono cresciuto in una città nella quale non mi sarei mai aspettato di vedere il centrodestra al governo del comune. Il secondo mandato, la vittoria al primo turno, è solo un fatto di proposta politica o secondo lei è cambiato anche l'orientamento complessivo della città? Beh, il cambiamento è sempre nel suo insieme, non è solo di una parte. Intanto l'elettorato cambia, basti pensare chi ha avuto il diritto al voto in questi cinque anni, tutti i neo-diciotenni sono molti di più, purtroppo tanti anziani ci hanno lasciato e quindi è cambiato proprio dal punto di vista anagrafico, più è cambiato dal punto di vista sociale. Noi abbiamo 13 mila persone che hanno origine, vivono qua, hanno origine però di altri paesi, la notizia di oggi penso che sia la bella notizia è che per la prima volta una cittadina dominicana nata a Santo Domingo e cittadina italiana entra in Consiglio Comunale della Spezia in una delle mie due liste civiche, quindi questo lo rivendico con orgoglio perché proprio una delle due liste civiche che avevo proposta agli elettori aveva la presenza di tutte le comunità che alla Spezia vivono perché sono convinto che noi dobbiamo essere un'unica comunità e non una società dove ognuno fa quello che vuole. Per fare questo bisogna avere anche nelle istituzioni e la rappresentanza. Ecco quindi sono tanti fattori che sono cambiati e questo ha determinato un cambiamento da un lato per il fallimento delle sinistre dopo tanti anni di governo, è chiaro io 5 anni fa ho vinto perché chi aveva preceduto aveva fatto male, se no le elezioni sono sempre un momento di conferma del lavoro fatto. Oggi invece secondo mandato la conferma e il giudizio positivo è chiaro che sta a significare da un lato che il percorso fatto è un percorso fatto bene, di qualità, dove c'è tanto da fare ma tanto si farà e l'altro è proprio questo, quello del cambiamento, proprio della composizione dei cittadini. Non ho ancora fatto in tempo ovviamente a imparare tutto, ma mi pare che la cultura l'abbia tenuta lei come delega, ha fatto la stessa scelta di Bucci, come mai questi sindaci vogliono tenere la cultura? È una delega molto divertente, indubbiamente, però ho cambiato un'impostazione precedente e la voglio completare. Voglio far sì che la cultura spezia sia di tutti, alla portata di tutti e di tutti coinvolgendo tutti, non solo di qualcuno che pensa di essere destinatario di questo settore e quindi una volta completato il percorso che stiamo facendo abbiamo portato il teatro in piazza, in piazza Europa, il teatro estivo, il teatro invernale al massimo livello, i spettacoli, abbiamo aperto i nostri musei a tutti, quindi c'è un percorso importante che voglio completare, tenendo in considerazione che noi abbiamo un museo che si chiama LIA, donato in parte alla città da Medeolia, che deve trovare innanzitutto un accordo con la famiglia per le opere ancora di proprietà della famiglia, come ha dato l'uso è scaduto e in più a quel punto bisogna veramente cercare di valorizzare al massimo. Il museo LIA è un piccolo louvre, è un piccolo fizzi, ma ci sono dipinti di Raffaello, Pontorno, Canaletto, Guardi, tutti i più grandi pittori dal Medioevo in poi, anche tutti gli giotteschi, quindi va valorizzato. È chiaro che gli accordi firmati in precedenza non ce lo permettevano, non ce lo permettono, vorrei chiudere questa storia con un accordo con la famiglia LIA importante che ci permetta di valorizzarlo a livello internazionale, questo è uno degli altri elementi per il quale ho voluto ottenere la delega. C'è un tema legato all'uomo waterfront e alla Calatapaita che è così importante evidentemente nell'immaginario anche per recuperare un pezzo di mare, il rapporto tra la Spezia e il mare, un po' tipico delle città italiane che devono migliorare l'accesso al mare anche nelle città che in effetti il mare ce l'hanno. Qual è lo stato dell'arte? perché mi sembra di capire che lì poi per ora non si trovi qualcuno che voglia investire o che voglia partecipare a questa gara che è di autorità portuale però ingerisce fortemente anche nei piani di sviluppo turistico e sociale della città. Beh intanto noi lavoriamo fianco a fianco con l'autorità portuale quindi di intesa con l'autorità portuale. Ci sono quattro manifestazioni di interesse, entro ottobre dovranno essere proposte le ipotesi progettuali e da lì in base al piano urbanistico vedremo quale sarà approvata. È chiaro che la Spezia è un'anomalia a livello mondiale, è l'unica città di mare senza mare e quindi è fondamentale dopo 131 anni avere riportato la disponibilità le funzioni urbane della Calata Paita stessa ed è importantissimo che questo progetto abbia un equilibrio tra la vecchia Spezia e la nuova Spezia, il nuovo fronte a mare perché sicuramente è un'opportunità unica come in tutto il mondo accade e non bisogna assolutamente sbagliare. I rapporti con l'università? I rapporti con l'università sono fondamentali, strategici, abbiamo un po' l'universitario, siamo arrivati ad avere 1200 ragazzi, trovano tutti il lavoro perché sono quasi tutti i ragazzi che frequentano le ingegnerie e oggi veramente mancano tante professionalità che servono ad esempio al mondo della nautica, della meccanica, ingegneria meccanica, meccatronica e quindi tutti i ragazzi che studiano alla Spezia, il 99 su 100 vanno a lavorare addirittura prima di concludere gli studi. La campagna elettorale è il momento in cui si apre il libro dei sogni, ora le elezioni le ha vinte quindi chiude il libro dei sogni e apre il libro dei progetti, che cosa c'è di fattibile, di importante che lei vorrebbe citare oggi all'alba del suo secondo mandato? Intanto noi fortunatamente il libro dei sogni non l'abbiamo citato perché abbiamo quasi tutto finanziato quello che abbiamo detto, c'è solo da studiare finanziamento sull'eventuale realizzazione del tunnel in Via d'Italia e la realizzazione dei parcheggi per il centro storico adesso collegati e quindi abbiamo fatto studio di fattibilità. Tutto il resto è finanziato, mi riferisco al rifugio antiaereo a Schenata Quintino Sella, novembre finiscono i lavori, un percorso interattivo dove sarà... Diciamolo bene ai nostri amici, non abbiamo paura dei russi. No, noi abbiamo progettato molto molto prima che i russi iniziassero la guerra in Ucraina, quindi anzi è un percorso di fatto turistico e storico di identità della città, dicevo il primo tratto sarà un percorso interattivo legato al Medioevo, alla storia della città del Medioevo che non è conosciuta in generale, il secondo tratto sarà una simulazione proprio dei bombardamenti della seconda guerra mondiale che magari i nostri nonni, i nostri avi hanno purtroppo vissuto. Questo è ormai quasi la conclusione. L'altro è la batteria Valdilocchi, un altro progetto importante, siamo molto avanti nel primo lotto, settembre-ottobre finirà, lì faremo eventi culturali e il recupero di una fortificazione molto bella con un panorama unico al mondo. Poi abbiamo l'area verde e i parcheggi per la bioteca Beghi, via il Canaletto, un'area molto bella, una riqualificazione importante di un'area degradata e poi abbiamo i progetti vinti col PNRR, il rifacimento del borgo di Cadimare, l'unico borgo di mare rimasto alla Spezia, tutto il resto è stato cancellato, tombato, una cosa incredibile dal punto di vista politico e quindi abbiamo vinto 2 milioni e 100 per riqualificare il borgo di Cadimare, abbiamo vinto la costruzione di due palestre, una per i portatori di handicap e per la ginnastica artistica, l'altra per tutti gli altri sport, sono 1 milione e 7 l'uno, abbiamo vinto il rifacimento, quindi la demolizione e la costruzione della scuola media, la scuola media Fontana, 4 milioni e 150, il completamento dell'ex diposito FITRAM per 1 milione e 9, purtroppo un'altra incompiuta che andremo a completare e poi ci stanno per essere assegnati 2 milioni e mezzo per fare una piscina proprio vicino al Palamariotti. Queste sono già tutte cose concrete, in più completiamo le fognature, abbiamo già fatto 10 km, ora andiamo a completare e poi stiamo collegando Mugiano e Pitelli come fognature sempre al depuratore e il nuovo progetto definitivo, l'abbiamo già fatto del piatto di depurazione, lì una parte dei soldi ce l'abbiamo già, per realizzarlo una parte l'andremo a trovare nel PNRR, queste sono tutte cose concrete. La questione centrale, Enel è finita, è superata, ci sono ancora rischi? Ma no, rischi no, perché non hanno più l'autorizzazione, quindi non possono andare in dergo l'autorizzazione che non hanno. È chiaro che Enel ha presentato due progetti, uno per produrre un megawatt di fotovoltaico, l'altro per realizzare un sito per produrre batterie che accumulano energia e ora vediamo che cosa ci presenteranno. Tenete presente che la svolta green della Spezia è una svolta seria, concreta, che non prevede solo l'accessazione dell'uso comune della Spezia, ma ad esempio l'utilizzo solo di filobus in centro città per la mobilità urbana. Il primo è già arrivato, adesso arriveranno da qui alla fine del anno gli altri 21, quindi sono 22 filobus che gireranno e serviranno in centro città proprio per abbattere il livello dell'inquinamento atmosferico. Oltre a quello rifaremo chiaramente tutte le fermate, degli autobus, cambieremo il sistema semaforico e sarà sincronizzato al traffico proprio per migliorare la qualità della vita e dell'ambiente in primis. Chiudiamo la nostra conversazione con un argomento che ci è caro, quello della nostra squadra di calcio, il rapporto con la società americana che adesso guiderà lo Spezia per il terzo anno consecutivo in Serie A. Le chiedo qualcosa sull'infrastruttura, ovviamente quello più importante è quella dello stadio perché mia convinzione personale è che questo passaggio in Serie A, mi auguro che sia il più lungo possibile, ma soprattutto servirà per consolidare la base dei tifosi che si abituano ad avere la loro squadra al massimo livello, ma anche le infrastrutture attorno alla squadra che quindi resterebbero comunque in ogni caso come eredità anche per il futuro. Sì, è un tema proprio all'ordine del giorno, la società deve decidere che tipo di intervento definitivo farà sullo stadio Pico che ha in concessione, noi abbiamo dato la massima disponibilità, nei prossimi giorni so che ci presenteranno un progetto, stanno scegliendo tra due opzioni, chiaramente l'adeguamento ai 12.000 posti con i servizi necessari per la Serie A saranno le priorità, ma non solo, noi insomma siccome contribuiremo all'investimento vogliamo anche ad esempio la copertura della curva degli ultras come da sempre abbiamo chiesto alla società. La nostra parte l'abbiamo sempre fatta dal primo giorno, abbiamo investito un milione e due il primo anno, un milione e sette il secondo anno, è chiaro che ora la soluzione finale però aspetta lo spezzacalcio, noi siamo fiduciosi, ottimisti che si farà un buon lavoro, i tempi saranno quelli che durante la pausa per i mondiali saranno iniziate una parte dei lavori, appena finito il prossimo campionato la seconda parte che riguarderà sicuramente la tribuna e i parcheggi. Molto bene, grazie Sindaco, in bocca al lupo per questi cinque anni e naturalmente buon lavoro a lei e alla città della Spezia.